Pachi, Pachi, giovane Pachi, ho parlato bene di te, nel disco di Tedua, sei l'unica nota positiva, quella strofa mi hai toccato, mi sono affezionato a te Pachi, e le hit le hai fatte, rozzi quella lì, quella è una cazzo di hit, del suo genere, per essere comunque rap teen, rap di un ragazzino giovane che comunque la strada la racconta bene, la racconta come la può raccontare un ragazzino, è chiaro, non stiamo parlando di un criminale, stiamo parlando di un artista giovane e che il suo lo fa bene, giustamente qual è la strategia migliore, qual è il segreto del successo oggi quando sei giovane, fai rap, tratti certe tematiche, si chiama featuring con Shiva, che invece non stimo affatto, ho parlato abbastanza male, dicendo che il giovane ragazzo comunque ha fatto dei brani in cui dimostra che sa spaccare, sempre parlando del fatto che il rap si è abbassato di livello, quindi col cazzo che spaccava ai tempi in cui il rap lo facevano caos, colle del fomento e compagnia, però devo dire che insomma questa accoppiata sicuramente a livello discografico per quanto riguarda il rap funziona, siccome non voglio criticare, siccome mi sono rotto le scatole di ripetermi, allora ho deciso che qui ho il testo in mano, quindi leggerò il testo, mi so, fermerò laddove necessario, però non andrò a criticare in maniera forte, anche se questo brano non è una hit, Rodzy era una hit, questa non è una hit, ma sicuramente farà i suoi click perché, perché, boh, perché, lo sappiamo tutti perché, che i ragazzini questo vogliono e boom 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 e cazzo uno che fa un minimo di rap spacca, ma perché, perché il rap spacca come genere, diceva Fibra, se l'hip hop va al numero uno come i grandi cantanti pop, alla fine questa roba va un tot, lo dicevo da un po', e così è stato, cioè quindi questi stanno ancora marciando dietro la scia di Fabri Fibra, sono passati 15 anni, raga, ancora siamo dietro quella scia, è il rap che spacca, non questa gente, se fai rap spacchi, se fai bene il rap, però va bene, ci sono le guardie, ferme al posto, chiede, tutto a posto? Sì, tutto a posto, finora abbiamo detto un cazzo, dove entravo? No, non c'è posto, sì, ma c'ho il posto, non mi conosci? Beh, un linguaggio giovanile criptico, qui comunque immagino che dove stava prima, ma non c'è più posto, adesso lui, boh, vabbè, affiancati in tre su una moto, ferro e vetro, fra uno strano rumore, di questo spara le vetrine, ho già ordinato il tuo omicidio, ok, siamo nell'assurdo, con questa frase capiamo che siamo nell'assurdo, stiamo facendo gli americani, ho fatto il mio fischio, sì, è stato bello, ok, vivevo fra te dentro al piscio, ma sono in business, sì, sono in serie A, e va bene, è stato celebrazione, ci sta, ci sta, giustamente, perché comunque, cazzo, avessi avuto io all'età sua quel successo, a quest'ora non ero qui, non ero qui, ve lo assicuro, stavo, non lo so dove stavo, forse non ce l'ho più, correvo forte a piedi nudi, hai visto mai Flintstones, mai avuto GTA, e vado fuori come il ciapo, parli di me, fratello, sciacquati la bocca, hai fra davanti un bocchinaro, cala la testa, gi, sta tenacuccia, e vabbè, insomma, abbiamo un esercizio di stile molto pseudo gangsta, che poi, come persona, mi sembra anche molto maturo per l'età che ha il buon Paki, e questa roba la deve fare, e gliela concediamo, dai, preferisco in altre strofe, però gli concediamo questo esercizio di stile, però sapete che cos'è che mi manca? Che una volta, quando uno voleva parlare di strada, diceva, non era solo un gioco di metafore cinematografiche, di immagini, ferro, vetro, strano rumore, come a dire, io l'ho sentito lo strano rumore, ma era più una sorta di manuale, di consigli, no? Mi viene in mente Vincenzo Davian Fossi, mi viene in mente i primi Jay, il primo Jay Clafuria, Cioè, erano, i Club Dogo, quindi, erano delle frasi che effettivamente chi aveva vissuto certe cose le riconosceva, ma erano nascoste, non erano palesate, ok? Lo dice anche Que Pechegno recentemente, non era un gergo, era tutto quanto un po' nella nicchia, e chi faceva parte di quella nicchia lo capiva, chiunque invece ascolta questa roba è chiaro di cosa stai parlando, ferro e vetro, uno strano rumore, insomma. Che cosa mi stai raccontando? Nulla. Quindi se Shiva, cioè, se Shiva, se Paki dovesse per sbaglio ascoltare questi audio, io quello che ti dico è, inizia a camuffarti un po', perché a palesarti sei stato bravo, ma, insomma, già hai rotto il cazzo. Insomma, quindi, quando ti racconti intensamente, ok, però, insomma, non sei certo un genio, lo sarai per questi ragazzini, però dovrai crescere anche tu. Rispetto per Paki. E poi c'è lui, l'emblema dello schifo, Shiva. Oggi sto in piazza con i miei, domani pure non lo so, mi hai detto, son qua, fra, non c'eri, come a dire, io ti vengo a fare brutto, ma poi non c'eri, proprio, Shiva che va a fare brutto, ma manco con 50 persone, manco se le paghi le persone, puoi andare a fare brutto. Tra i vicoli bui ti sei perso, ah, perché tu no, nel tuo ego, il mio palazzo non sta in piedi, bravo, giusto, giusto. La mia ragazza non mi crede, fa bene, domani muoio, non ci credi, dico, cioè, non ci credi? Vabbè. Ho voluto fare il rapper, giusto. I miei stanno al verde, ma stiamo cambiando. Questa città a volte è un inferno. Infatti, c'è chi nasce nel peccato. Insomma, non è Dante, però, non è malissimo. Ho fatto jackpot senza grattare, vero, vero. Senza ricetta ho riempito il piatto. Anche questo vero. Prendo il campetto alla popolare, faccio ciò che non è stato fatto. Qui iniziamo ad andare un po' nell'assurdo, perché tutto è stato già fatto, però, vediamo un po'. Sempre in strada come un GPS, questo è molto da vedere. Cosa vuol dire sempre in strada? Cioè, sempre in giro? Beh, complimenti, vabbè, cioè, giovane, 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 giovane. Giovane Flow S, ora un GT. Più di un frero, che immagino sia un nuovo gergo per dire fratello, che scommette. Quindi insomma, un sacco di amici ludopatici. Ma non più alla better, sì. Ora sopra il mio CD. Quindi la gente non scommette più, ma, insomma, riciclano i soldi tramite Shiva. Questo vorresti dire? Da vedere. Carino il gioco di stile. Metti là con la K, il 4, con il 7. A K47, quindi, insomma, è lui che spara. Shiva è matto, ti spara in faccia. Sai cose non dette? Tipo, bruh, ah, siamo passati da vendere le tue panette. Quando mai? Ma che cazzo hai venduto, Shiva? Ma che cazzo dici? Ha le mie magliette. Ok, vabbè, ci sta il solito concetto. Però io, quando, cioè, uno come Shiva, che nella vita, cioè, uno è che dici, sei un gangster se vendi l'erba. Cioè, vabbè, vendi il prodotto, insomma, mondo di merda. Poi, insomma, quando vendi il prodotto, sta gente, se lo fai per troppo tempo, poi succedono un sacco di cose. Quindi magari hanno venduto 10 grammi, hanno fatto il passaggio, venduto la panetta, proprio la voglio proprio vedere. Che se sei un commerciante, non sei un gangster, il gangster è il criminale, è un'altra cosa. E ne ho parlato molto approfonditamente nell'audio su 6ix9ine, su Trolls, ho parlato di questa tematica. Comunque, magari faremo degli speciali proprio su questa figura. Comunque, eh, classico esercizio di stile. Io aspetto ancora di vedere Shiva con le panette, perché non è che dici, se le compra, ci fa la foto e tutto. Però voglio proprio vederli, questi real G, mi piacerebbero. Pachi, secondo me, è vero. Pachi, secondo me, è giovane, ovviamente, c'è 16 anni, quanto puoi essere Ria? Se è più, se è più focato, se è più, capito, che è criminal, insomma, se puoi essere un delinquentello. I criminali sono altri. Però, secondo me è vero, Shiva, Shiva è tutto immaginario. Shiva, raga, stava al primo posto in classe, probabilmente, alle calcule professori, a mettere crocette al questionario. Non che ci sia qualcosa da obiettare, anzi, tornassi indietro, mi applicerei di più negli studi. Però, insomma, se dobbiamo parlare di immaginario, street, insomma, va bene, va di moda e tutto. Però, da Pachi lo accetto, da Shiva no.